Siamo felicissimi amici di Radio Bruno perché abbiamo qui Angelina Mango, ciao! Ciao, grazie dell'invito. Ciao a tutti. Parliamo un po' di questa collaborazione, hai iniziato a lavorare con Madame ed è uscito questo pezzo sarremese che è a detta di tutti, insomma, sarà bellissimo e travolgente. Intanto speriamo. Sì, con Madame c'è stato un incontro più che altro di sensibilità, un incontro spirituale. E secondo me è stato indispensabile per poi approcciare a una canzone del genere perché la noia è una canzone, pur essendo un pezzo up, molto profonda e bisognava essere d'accordo prima di scriverla. E devo dire che con lei e con Dario è stato giusto tutto. Un'amora musicale a prima vista? Sì, assolutamente sì. Anche personale, devo dire la verità. Io la stimo proprio come persona, Madame e anche Dario. Ma la noia è necessaria anche per capire quanto sia non necessaria e possa creare anche tante cose, no? La noia spesso viene vista come qualcosa di negativo, da allontanare, da riempire. Invece la noia è del tempo e quindi se noi sfruttassimo tutti i momenti di noia per pensare un po' a noi stessi e a cosa ci fa stare bene, forse sarebbe meglio. Diciamo che qui a Sanremo l'atmosfera non annoia mai. No, devo dire che finora non mi sono ancora annoiata, però ogni tanto passo dalla noioteca che abbiamo allestito, che è proprio un posto dove ritrovare la noia che a Sanremo manca. Quindi non può mancare magari un divano? Assolutamente no, c'è tutto. C'è tutto. Il DNA, anzi nel tuo DNA c'è Sanremo, assolutamente. Però adesso che ti trovi in questa edizione, tanto attesa con Amadeus, qual è la tua emozione? Beh, sicuramente non mi è mai stato nascosto il fatto che Sanremo sia un palco abbastanza spaventoso. Quindi sono pronta, cioè lo so che è spaventoso. Spero in realtà di concentrarmi sul resto, di concentrarmi sulla fortuna che ho di calcarlo e sul godermi ogni momento. Questo è il mio obiettivo, ecco. A proposito di momenti, noi l'abbiamo capito che durante la serata delle cover ci vuoi emozionare. Pocca piagne. Sì, perché comunque ricorderai la rondine con l'orchestra e il tuo grande papà. Sì, è stata una scelta abbastanza strana per me perché non ho mai cantato nulla di mio padre e per scelta in realtà. Però proprio per questo assume molto più valore farlo qui. Secondo me era giusto, era tutto giusto e spero di riuscire a portare tanto amore sul palco che è tutto quello che ho. Senti, mamma che ti ha detto? Mia mamma è molto contenta, mi guarderà da casa e è preoccupata come tutte le mamme ovviamente che io mi copra, che mangi e tutte queste cose. Però è stata anche lei molto sincera e sono sicura che se dovessi chiamarla per qualche sclero dell'ultimo minuto lei mi risponderà. Anche perché lei ha calcato il palco e quindi ti ha magari detto... Ma anche la stessa madame magari ti ha dato dei suggerimenti. Sì, devo dire che da tutte le persone importanti, mi è stato detto di essere sincera sul palco. Quindi è quello che io voglio fare, ce l'ho qui stampato in testa questa cosa. Ma noi lo sappiamo perché comunque ti avevamo visto anche quest'estate, sempre preparatissima, concentrata, sempre riscaldando la voce dietro le quinte. Insomma, è il mestiere che avevi da sempre dentro di te che volevi fare? Io penso che questo sia il mio posto nel mondo. Non dico Sanremo, cioè anche Sanremo, però sì, sul palco. E quindi voglio farlo bene, il mio lavoro. Grazie mille ad Angelina Mango. Grazie a te. Grazie e buona giornata. Grazie.